Benvenuti al mio blog. Sono Elvira Dones, scrittrice di origine albanese, scrivo in italiano, vivo negli Stati Uniti, quindi la lingua di scrittura appunto è l'italiano, la lingua di famiglia nel frattempo è l'inglese e l'albanese è la mia lingua madre. Facendo un piccolo passo indietro un po' di giorni fa pioveva a Washington, nel mio studiolo avevo aperto un po' la finestra per arieggiare mentre continuavo a lavorare sulle correzioni del prossimo libro e uno dei tecnici della manutenzione del quartiere stava aprendo le stradine dove la gente doveva passare e nevicava, nevicava, nevicava. Lui si chiama José di El Salvador e stava bestemmiando a più non posso nella sua lingua infilando un pendejo dopo l'altro al che rido. Esco dalla porta, lo saluto e dico José se ti avessero sentito con tutte le parlacce che hai detto ti avrebbero licenziato in tronco e lui rideva, mi dice, beh sì per fortuna che non ne capisce nessuno in questo quartiere qui e posso bestemmiare nella mia lingua, tu bestemmi nella tua, no? Perché io gli ho detto no, effettivamente no, io bestemmio in italiano e lui mi dice, chica sei talmente strana. Saluto José, chiudo la porta e dopo rifletto proprio su questa mia impossibilità di imprecare in albanese nella mia lingua perché parlo in italiano, sogno in italiano, piango in italiano e impreco in italiano. Tornando alla letteratura, dopo sette libri scritti in albanese ho deciso, oppure sono scivolata lentamente dopo tantissimi pensieri sullo scrivere in italiano oppure no. Ho deciso di farlo, è venuto molto naturale in un certo senso ed è nato Vergine Giurata con tanta facilità. Ho scritto Vergine Giurata in italiano appunto, il mio prossimo romanzo che è appena terminato l'ho scritto ancora in italiano, nonostante io sappia che il mio italiano italiano non è perfetto, non ha la ricchezza di qualsiasi altro scrittore italiano, ma il mio albanese però e le altre lingue che parlo mi aiutano a contaminare l'italiano ma a renderlo vivo nello stesso tempo, a esprimere la carne della mia anima, dar sangue a ciò che scrivo, rendere le idee, le atmosfere, i ritmi, i suoni. Ogni tanto prendo una frase in albanese e l'ho adatto all'italiano, però poi faccio anche il contrario. Quando vado in Albania i miei amici, i miei lettori spesso mi dicono che suono strano. Suono strano perché le mie cadenze vengono ormai dall'italiano e spesso anche dall'inglese, soprattutto la mimica facciale ogni tanto perché vivo l'inglese tutti i giorni e resto con la valigia sempre in mano perché viaggio moltissimo e guai chi me la toglie quella valigia. Straniera ovunque penso che rimarrò fino alla fine dei miei giorni e mi piace moltissimo. Mi piace molto perché mi aiuta a non avere cose che mi tengono legata. Se mi metti in una scatola di fiammiferi io ne esco, divento matta, divento matta e con la chiusura mi ammazza, mi uccide. Per cui questo andare in giro per il mondo, fluttuare in un certo senso, mi aiuta molto per lo scrivere, per guardare il mondo e poi ritirarmi nel mio cantuccio, che poi questo cantuccio sia nella Svizzera italiana che sia in America che sia in Albania. Vedo che ci sono terre che mi aspettano, anche se non mi aspetta nessuno, ma comunque quando scendo in Italia io mi sento a casa, quando scendo in Albania mi sento nella mia culla naturalmente e torno sempre con una grandissima emozione. E quando torno in Svizzera, stranamente, mi sento a casa, nonostante scendere a Zurigo, all'aeroporto di Zurigo, si parla quindi non si parla il mio italiano, ma comunque è casa, è quella cosa chiamata Swissitude. Ecco, sono un po' di tutte queste cose insieme. E qui in America mi sento americana perché quando scendo all'aeroporto mi dicono welcome home. Welcome home in Svizzera, nonostante io avessi il passaporto svizzero, nessuno me l'aveva mai detto. Quindi è bello, quello welcome home è veramente molto bello. Questo è il nostro primo incontro, il primo blog video. Vi aspetto se volete scrivermi, se volete buttarmi lì cose che possiamo discutere insieme e se volete parlare dei miei libri ancora meglio. Un ciao a tutti. Grazie.